Ok, abbiamo già i primi sei spettatori. Oddio, oddio, ci siamo. Ma dimmi tu, dai, su, se vogliamo iniziare. Allora, faccio così, facciamo questi primi minuti, intanto ti introduco per chi è appena entrato. Buonasera a tutti quanti. Questa è una serata dedicata a Lupin, su Terre Illustrate finalmente, dopo ho fatto sei live e non ho mai parlato di Lupin, alcuni si sono insospettiti, è successo qualcosa, tranquilli, sarebbe arrivata. Siamo qui con Andrea Yudentuto, che è una personalità, diciamo, del mondo di Lupin, molto conosciuta, un esperto di Lupin. Grazie. È uno storico, ma è stato anche un animatore e un mangaka. Ha lavorato in Giappone, ha lavorato allo studio Telecom e ha avuto, invece, ha avuto anche la fortuna di pubblicare alcune storie di Lupin sul mensile Lupin Official Magazine. E, tra l'altro, negli stessi mesi in cui veniva pubblicato il manga di Lupin di Yasuo Otsuka, se non sbaglio. Ah, sì. Sì, ho conoscenze anche di quello. Sì, ho studiato. Ha studiato, perfetto. E, allora, per chi vorresse, ovviamente stasera parleremo con Andrea e quindi lo conoscerete di più, ma per chi volesse conoscerlo, oltre la live, io vi invito a cercare su Anime Click l'intervista che ha fatto, appunto, con i ragazzi di Anime Click, che è molto interessante, in cui parla della sua esperienza nello studio Telecom. E, in più, se volete vedere, avere un assaggio di lui come animatore, vi invito a cercare Kaeru Noikebana su YouTube, che è un piccolo video di cui lui ha curato le animazioni. Ora lo metto in chat il link e potrete guardarlo comodamente dopo aver visto la live. Mi raccomando, non andate a vederlo adesso perché vi perdete la live. Eh, certo, ma al di là di questo ti ringrazio tantissimo, Matteo, una bellissima presentazione. Allora, sì, come storico di Lupin Terzo, l'Official Magazine era un trimestrale e quindi non era un mensile. A livello, no, no, ma non ti preoccupare, nessun problema, è solo deformazione professionale, ma in realtà, come mi chiedono in tanti, ma allora, quindi, come numero, quanti special ci sono di Lupin? Vai a vedere su Wikipedia. Quindi, lasciamo stare. No, comunque, al di là di tutto, sì, veramente grazie, io ringrazio gli amici comunque di Matteo e di questo live che siete qui con noi. Passiamo un po' di tempo insieme. Io spero tanto che siate non solo appassionati di Lupin, ma comunque dell'animazione giapponese e dei manga giapponesi in generale. Quindi è bellissimo. State con noi assolutamente perché secondo me potrebbe essere molto simpatico parlarne insieme. Se avete delle domande, Matteo sarà qui, soprattutto a fare da regia e a leggerle. Quindi scrivete, chiedete, anche perché non siamo una registrazione, per carità. Siamo qui dal vivo. Poi abbassate un po' il tono. Matteo mi raccomandava tantissimo, ma in realtà siamo tutti amici, siamo tutti appassionati. Con manie più o meno in più, la mia è quella di essere storico, di attaccarmi a tutto e di più. E vivo comunque per Lupin. Ma sì, tu Matteo, mi dicevi prima per quanto riguarda Nippon Shock Edizioni. Esatto. Sì, dimmi esattamente cosa... Allora, questa è una serata, ragazzi, questa è una serata su Lupin. Abbiamo anche, ecco, anche il curatore di un'opera che sta per essere pubblicata in Italia da Nippon Shock Edizioni. Lui curerà e tradurrà l'opera insieme a sua moglie. Bravissimo, hai studiato tanto. E quindi ne approfitteremo anche per parlarne, anche perché è molto legata a Lupin. Infatti Nippon Shock Edizioni pubblicherà in tre volumi l'opera Losers, questo manga che racconta la genesi di Weekly Manga Action, che è la rivista su cui veniva pubblicato Lupin, ma è anche altri manga molto importanti, tra cui Lone Wolf & Cub di Kozue Koike e... Koike. Koike. Anche di recente, è una rivista che va ancora avanti di recente, ha pubblicato altre opere importanti, tra cui mi piace sempre segnalare questa cosa, perché Wingly Manga Action è fondamentalmente la prima rivista manga seinen, quindi la prima rivista per ragazze giovani adulti. E molti non capiscono bene cosa sia un seinen, perché non si rendono conto che... cioè sono convinti che sia solo le pubblicazioni molto... i thriller, molti scambiano i seinen per dei thriller. In realtà sono pubblicazioni rivolte a giovani adulti, che i giovani adulti leggono qualsiasi cosa, infatti di recente è stato pubblicato, cioè di recente negli anni 90, persino un manga come Shin Chan, che è un manga molto divertente. E alla genesi di Wikimang Action abbiamo anche il nostro grande Monkey Punch con Lupin, su cui ha pubblicato sia la prima serie che la seconda. Dunque io, Andrea, volevo chiederti com'è nata questa collaborazione con Nippon Shock e l'idea di pubblicare in Italia questa manga. Allora, l'idea in sé per sé è nata veramente in maniera molto, se vogliamo, amichevole. Amichevole dal punto di vista perché il manga ha avuto molto successo in Giappone. La Futabasha è una delle principali case editrici giapponesi, però ha molto rispetto rispetto a grandi colossi come possono essere Kodansha, Shukakkan e altre, Shueisha, perché è una casa editrice pilastro, molto intraprendente e innovativa, anche per Seine e Manga, in Giappone. Quindi chi fa parte della Futabasha è una persona che ha scelto comunque un tipo di mestiere molto tradizionale, molto impegnativo, vecchio stile, tra virgolette, per quanto comunque sia una casa editrice nuova, sempre pronta comunque ad andare su nuove prospettive. Però, logicamente, parliamo di una casa editrice che ha sempre puntato su un fumetto d'autore. L'idea è nata principalmente dalla mia passione che avevo per questo manga che ho portato ad amici come Germano Massenzio che su Napoli è un grande amico di Adriano Forgione che è l'editore. E lui ha detto guarda Andrea sta impazzendo per questo manga, lo vorrebbe pubblicare. diamogli questa possibilità, sto poverino. In effetti, ripeto, l'avrei fatto con il cuore perché l'amicizia, l'affetto, il ringraziamento per il maestro Monkey Punch in me è una cosa molto importante. e l'editore di Nippo Shock ha ricepito, ha voluto rischiare, lanciarsi, intraprendere la cosa e se non avete idea di cosa significa pubblicare un manga che non è assolutamente conosciuto sui principali canali media. Questo significa che bisogna veramente crederci. E siamo andati avanti. Siamo andati avanti. Io ho avuto l'apporto d'amicizia perché è la prima volta che traduco e soprattutto adatto insieme a mia moglie adatto insieme a mia moglie e curo comunque un manga. E niente, ho avuto comunque l'affetto, l'amicizia e la collaborazione di Edoardo Serino che tra l'altro è il traduttore della versione Rupan Sansei di Panini con cui ci conosciamo comunque da parecchio. Sì, immagino che tu l'abbia lì. Perfetto, ok. Quindi Edo è stato veramente e comunque anche lui fa parte dello staff di Nippon Shock oltre che Panini, Star Comics, eccetera. Noi ci conosciamo da diverso tempo, collaboriamo e mi ha dato una grande mano per aiutarmi su quelli che sono i parametri italiani per la traduzione. Quindi diciamo che tra virgolette anche io sotto questo aspetto come la Futabasha sono un tradizionalista che si affaccia a voler spiegare, raccontare di questo manga il più possibile. Infatti è tutto in linea di come dire, di creare oltre che un manga portato in Italia di dare un aspetto più ricco, più vivace, più storico come se fosse veramente un documentario, un film che tutti possano vedere. Capire a fondo nei particolari. Anche perché comunque gli italiani per la mia esperienza in Giappone siamo sempre stati e siamo ancora tutt'oggi forse solo dopo gli americani il paese più legato al loro mondo. Io appena dico sono italiano ma tu sei un fanatico di manga e anime sicuro? Certo, per carità, che domande mi fate? No, gli italiani sono qualcosa di incredibile. loro più che altri e tutti quanti gli appassionati di manga e anime credono in noi italiani come qualcosa di incredibile. Noi, scusatemi, loro, io dico sempre un po' noi siamo considerati veramente al pari dei più grandi fan. È vero, anche perché poi i manga cioè il boom dei manga in Italia è arrivato molto presto rispetto ad altre nazioni del mondo. Cioè gli americani al momento sono grandi consumatori però sono arrivati in molto ritardo rispetto a noi. Allora, no, no, aspetta gli americani sono arrivati allora bisogna comunque distinguere due aspetti scusami se non stiamo praticamente parlando di lupen in questo momento ma credo che faccia piacere a tutti saperlo. Allora no, il popolo più cioè il paese che ha avuto più contatto con il Giappone a partire già dagli anni 60, 70, 80 invece è stato proprio l'America. Diciamo che dal punto di vista dei media del boom l'America è arrivata pochi anni prima rispetto all'Italia però considerando dalla metà degli anni 80 in cui i fan gli otaku americani compravano da quei pochi negozi che erano praticamente come la nostra fumetteria che compravano dal Giappone sono stati praticamente investiti e hanno guadagnato grazie agli italiani perché nel momento in cui il loro catalogo è approdato in Italia hanno avuto praticamente io non posso dare dei dati certi ma hanno avuto un 50-60% di incremento di vendite cioè questi negozi sono andati avanti grazie soprattutto agli italiani quindi California che importava di tutto e che vendeva e aveva negozietti piccolissimi ha cominciato cose inutili che faccio dei nomi italiani anche perché non so se posso fare pubblicità positiva comunque a negozi però comunque loro avevano le classiche fumetterie piccole piccole con le videocassette che so per esempio nell'88 già 88-90 le video di Totoro che potevi comprare da loro però erano negozietti piccoli facevano quello che potevano la Viz Comics cominciava a tradurre ma tramite Codansha poi alla fin fine i clienti erano italiani eh parliamoci chiaro cioè un bel po' di italiani avevano la versione in inglese della Viz quindi noi siamo un popolo incredibile la gente veramente si inchina a noi tutte le volte che ci vede ah italiani ah vabbè allora che ci avete più di noi non ti preoccupa che ci abbiamo ci abbiamo e niente quindi io sono convinto che questo manga piacerà tantissimo e sarà ripeto non solo per il nostro cioè per l'impegno mio e di mia moglie ma di tutto lo staff della Nippon che sul serio non è per propaganda veramente ci crede eh Adriano Forgione della Nippon ha detto Andrea qualunque cosa tu voglia fare fallo e per noi va benissimo e quindi adesso scatta la responsabilità della cosa è un titolo io ammetto che è un titolo che non mi conoscevo perché su Twitter ne ho visto molte diverse tavole postate dall'editore e dall'autore stesso e non mi aspettavo assolutamente di vederlo annunciato in Italia perché cioè comunque come hai detto tu è proprio un titolo è un documento non è un non è semplicemente una storia è un documento di un momento storico molto importante però è anche un documento storico di un momento di cui non è che si parla tantissimo in Italia si parlano delle opere uscite in quegli anni però non si parla tantissimo cioè di weekly manga action conosciamo Lupin ma non conosciamo effettivamente la rivista cos'era perché comunque le riviste in Italia non è che ci sono queste riviste qui e quindi non me l'aspettavo è stata una veramente una gran bella sorpresa tra l'altro Nippon Shock si sta abbastanza affermando con queste sorprese perché mi ha stupito anche l'anno scorso o due anni fa quando ha pubblicato il volume sull'Eiji Matsumoto che anche quello è molto molto interessante quindi per chi voresse intanto avere un assaggio della Nippon Shock consiglio di andare a guardare quel volume lì molto innovativo molto innovativo anche qui su questo Edoardo Serino ha fatto un ottimo lavoro e anche il grafico in sé per sé si è trovato in una situazione veramente molto dinamica no stupendo stupendo lo dico veramente da esterno quasi perché sembra tu lo fai apposta no no in realtà è proprio questo alla proposta probabilmente non avrei accettato se non fosse stato comunque una persona che conoscevo in maniera positiva e tra l'altro di chi di chi vuole veramente fare del del manga del manga a volte trascurato ma notevolmente importante però non ti preoccupare nessun problema per carità anzi spero di di portare al meglio il mio lavoro insieme al nostro team che freme comunque comunque bellissimo quella foto a bascia sta andando molto bene siamo veramente contenti e tutto procederà anche nella stampa nella maniera migliore possibile io credo anzi ne sono convintissimo che ci saranno tanti fan di Lupin che vorranno la copia in italiano perché appunto come dicevi tu il rapporto dell'Italia con manga e anime è incredibile e quello con Lupin è ancora di più cioè Lupin veramente in Italia è un'istituzione certo certo sul rapporto Italia Lupin io io non ho una collezione enorme però qualcosina ce l'ho ho la oh dio il K Magazine con la storia di di Lupin ambientata a Luca Comics per pubblicizzare sia l'arrivo di Monkey Punch in Italia che l'inizio proprio del manga nella pubblicazione grazie K Boys mostro qualche tavola che tra l'altro adesso tu mi confermerai o mi smentirai questa cosa è una delle ultimissime storie disegnate da Monkey Punch con Lupin sì allora innanzitutto è è una storia veramente molto bella io all'epoca ne parlai con con i ragazzi dei K Boys perché comunque io e le mie moglie collaboravamo a livello di di Lupin già da prima quindi quando fu deciso che che Monkey Sensei sarebbe arrivato in Italia ci sentimmo per telefono io mi ricordo una telefonata con con Barbara e noi ci siamo certo e allora fareste un articolo di presentazione parlamo di mitico con gli articoli speciali infatti in quel numero dovresti trovare l'articolo mio e di mia moglie su sul un dossier su Lupin e lui fu contentissimo loro ne parlarono presentarono il progetto e Monkey Sensei ha realizzato questo manga proprio in maniera spontanea ed è molto conosciuto in Giappone io personalmente non ho lo ammetto non ho una copia ah sì veramente proprio per storia io ho portato diverse copie in Giappone a tanti amici perché volevano avere questo numero no assolutamente delle tavole inedite immagino anche perché voglio dire è un'istituzione e realizza una storia inedita noi noi italiani non dobbiamo pensare assolutamente di essere dietro una produzione giapponese perché i giapponesi animatori mangaka ci adorano veramente ci adorano io vorrei veramente cercare di spiegare quanto loro siano contenti io tante volte che mi sono incontrato con alcune persone comunque diciamo tra virgolette conosciute sempre mi hanno detto ma veramente ma gli italiani ma come mai adorano il nostro mondo io ricevo lettere dei fan mi scovano a casa mi vorrebbero incontrare a me non capita con altri paesi è logico gli italiani gli italiani mica te li togli davanti gli italiani ti arrivano ti saltano addosso vogliono il disegnino anche in questo comunque anche Monkeys in sera non credo di essere stato come dire una figura particolare diciamo che sono stato parecchio fortunato perché anche lui comunque amava l'Italia e ci siamo conosciuti in questo modo sia a Lucca poi frequentandoci l'amicizia diciamo un rapporto veramente su cui non finirò mai di ringraziarlo è stato più di di ala protettrice io credo che sia stato un po' il fatto che io e mia moglie eravamo più giovani avevamo comunque difficoltà stando in Giappone se vuoi come immigrati tra virgolette lui è sempre stato disponibile con tutti però nello stesso tempo quello che avevamo vissuto insieme pian piano ha creato quell'amicizia su cui insomma averlo avuto a casa per esempio a mangiare la pasta fatta in casa da me in casa no nel senso che l'avevo comprata per carità fatta e cucinata in quel momento e sederci insieme è stato veramente molto bello e comunque per tutti i fan di Monkey Punch che sono in linea e magari lo saranno vedendo il video dopo io posso solo dire che è stata è stata e sempre nel mio cuore una persona stupenda cioè ha sempre dato a tutti il massimo possibile mantenendosi comunque come un maestro da riconoscere però veramente disponibilissimo per qualunque cosa anche quando negli ultimi anni non stava comunque bene in genere comunque un po' zoppicante eccetera ci siamo comunque visti è sempre venuto lui su Tokyo per incontrarci e su questo cioè non è non è una cosa che che molti autori famosi farebbero insomma io l'ho accompagnato un paio di volte alla stazione una volta a Shibuya e ha preso il treno è stato bellissimo perché ha detto andiamo a mangiare c'è la macchina che la deve accompagnare a casa ho detto no tu copano torno con il treno un'ora e mezza ci metto cioè capite raga è troppo bello cioè tu sei a Shibuya doveva mangiare con lui poi l'accompagna in treno e prende e prende un treno capito prende un espresso come da noi se sali su su un treno normale delle ferrovie dello Stato e si deve fare un'ora e mezza per tornare a casa però sai come fai a non inchinarti a 90 gradi mentre la porta si chiude maestro veramente cioè con cose di questo tipo persona stupenda e su quello veramente non è un mio ricordo lo voglio portare a tutti perché perché chiunque pensi ma chi c'è dietro questa figura cioè una persona stupenda va va amata è troppo è troppo è troppo bello scusa mi sto parlando io no assolutamente è un piacere comunque sentir parlare di del sensei perché voglio dire se siamo qui è anche per lui e soprattutto e appunto ma tu avevi anche altre domande esatto approfittiamo che ci allacciamo e ti faccio un'altra domanda appunto legata proprio al sensei e al manga che stai traducendo e quindi ti volevo chiedere se tu avessi la possibilità di scegliere un'opera da tradurre e portare in Italia del sensei che è inedita quale porteresti? è un po' difficile dirlo perché ce ne sono tante sono stupende anche perché allora io sono molto legato all'uomo invisibile di mio però c'è anche Dracula Kun il vampiro che morde il sedere non so quanti lo possano conoscere io mi sono divertito tantissimo tu mi hai mostrato poco fa il manga legato a no oltre le storie piccole al sì alle mille e una notte che è stato un sì è un manga in Italia certamente è inedito perché ne avrei comunque avuto notizia ah perfetto si vede è un manga stupendo molto maturo rispetto al suo addirittura molto controllato lui ci ha lavorato molti anni ha fatto fatto delle tavole sono incredibili già sì sono veramente stupende la collaborazione con con il fratello ma soprattutto il tempo che lui ha avuto perché comunque si era liberato dalla serialità e della della pubblicazione quindi ha lavorato praticamente come preferiva con i tempi che voleva è un manga molto maturo io credo che sia veramente un prossimo passaggio del di una possibile bella edizione italiana sarebbe fantastico sarebbe fantastico ho conosciuto questo manga tramite il blog di Ted Oshia letto su google translator il blog stesso perché io non leggo il giapponese bellissimo e Tad senti ma tu hai contatti con Tad in che modo facebook twitter lo seguo su twitter e sul blog però ovviamente non lo conto non gli parlo seguo solo quello che scrive e lui condivide tutte queste cose bellissime e l'ho scoperto proprio perché lui fece un post cioè un post molto vecchio che io ho recuperato in cui parlava proprio che aveva appena parlato con il sensei e il sensei gli aveva detto che stava andando a documentarsi per realizzare proprio questo manga e allora io ho detto lo devo recuperare assolutamente si vede come dici tu che è un'opera molto matura ha dei toni molto differenti rispetto alle produzioni più 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 posato esatto questo sì ma è comunque la sua intenzione ha sempre avuto un grande rispetto Tad se mandagli un messaggio dagli anche il link della cosa io ci conoscevo benissimo forse cioè forse sicuramente sulla mia pagina trovi anche una foto con lui a un concerto di Ono sì sì no Tad è uno dei gran sì 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 no veramente mi piace tantissimo a questo stile è stupendo che veramente è uno di quei pochi artisti che oltre al sensei che sulla pagina di Lupin è riposto in continuazione perché non puoi fare altro che condividerle con gli altri ah bellissimo 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 sì sì è stupendo comunque vai a guardarti l'album foto sulla mia pagina di Andrea Judentutto Mangakai animatore e troverai la foto con Tad mi ha regalato sì mi ha regalato le sue pinze anche lui è un grandissimo fan di Ono-san sì è vero anche perché nelle sue illustrazioni ma lui ha fatto il sensei e Ono sì ma lui ha fatto una una copertina di uno dei cd di Ono questo non lo sapevo sì 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 come come grafico e niente è molto interessante credo addirittura di avere il l'edizione esempio un sample di quando lui l'ha fatto credo quella ricevuta da da Ono addirittura perché ogni tanto riesco a recuperare anche questo tipo di cose sì no comunque un momento solo che lui ha fatto anche delle spille sul trio se riesco a trovare mia moglie da qualche parte non so se è qui credo che sia da queste parti ma come al solito occupata nel suo studio forse mi ha sentito un momento portate un attimo di pazienza la donna del mistero no no allora nel bunker nella parte davanti ci sono le spille di Tad del trio lì dove le trovi proprio davanti intanto ti leggo una domanda dal pubblico così ah sì 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 certo certo allora c'è Loiju che chiede buonasera mi piacerebbe sapere cosa ne pensate dell'evoluzione che ha avuto Lupin da quello originale più cattivello di Monkey Punch a quello più edulcorato introdotto da Miyazaki che l'ha trasformato quasi in un Robin Hood che alla fine è quello più conosciuto la domanda è abbastanza grande quindi ti lascio è grande ed è pericolosa anche perché comunque insomma rimanendo traccia di tutto quello che diciamo allora qui stiamo parlando comunque di un paio di mostri sacri su cui doverci paragonare allora tutti sanno che comunque poi alla fin fine il periodo non era adatto per la prima serie semplicemente a presentare un un Ropan Sansei che non era era famosissimo però ancora non era così tanto popolare al pubblico e quindi una presentazione in tv era parecchio rischiosa allora sì la produzione ha avuto coraggio è partita l'audience era ottimo ma non abbastanza da poter diventare un prodotto da poter usufruire al grande pubblico quindi la strada è cambiata la production si è mossa in tal senso Miyazaki e Takahata si sono introdotti e il personaggio è cambiato di molto soprattutto un episodio in particolare il ventunesimo che è quello che Miyazaki ha poi utilizzato come plot di idea di lupen di Cagliostro allora Cagliostro avrebbe vinto sicuramente nel livello di produzione Miyazaki era già molto famoso quindi non è stato non è stata tanto una sorpresa il budget c'era ok diciamo che bene o male Monkey Sensei non poteva essere propriamente d'accordo sulla visione così edulcorata ok però lupen aveva delle necessità per quello anche che conosciamo oggi e per quello che dobbiamo comunque per cui ringraziare anche Miyazaki sulla popolarità che gli ha dato in modo che oggi personaggi come Koike riescano a ricreare quelle sue atmosfere se non ci fosse stato quel cambiamento già in prima serie che tanto tante ne ha passate ingiustamente oggi non avremmo tutto questo diciamo che il Sensei è sempre stato molto convinto delle proprie idee e tutti sanno che era contrario all'idea di farne animazione ma semplicemente perché già il personaggio probabilmente senza che noi possiamo mai avere idea oggi nel presente avrebbe avuto una strada differente se fosse stata in mano sua tutta la situazione ma lui non aveva così né possibilità economiche e il mercato stava effettivamente cambiando anche Weekly Action poi alla fin fine è stata la prima ma nessuno se ne ricordava più perché comunque dopo poi lo leggerete comunque nel manga era già un boom imminente assolutamente comunque io concordo con te anche perché noi possiamo parlare con il senno di poi siamo nel 2020 e stiamo vivendo in un momento in cui Lupin non possiamo diciamo lamentarci perché in questo momento la TMS appunto ha preso sta portando avanti entrambe le versioni del personaggio e questa è una cosa che apprezzo veramente tanto hanno avuto molto coraggio a riesumare grazie a Koi che questa versione un po' più appunto come dice il commento cattivella di Lupin e diciamo che appunto se le cose fossero andate unicamente nella direzione di Miyazaki che io apprezzo molto magari mi sarebbe dispiaciuto perché si è perso una cosa si è perso un personaggio si sarebbe perso un personaggio molto interessante però in questo momento possiamo dire che ce n'è per tutti chi apprezza una parte chi apprezza l'altra chi apprezza entrambi poi festa tipo me festa certo certo ma è proprio questo Lupin Sansei sa crescere sa crescere insieme al proprio pubblico e sa che comunque chi vede chi vede anche Conan no? insieme a Lupin io devo sempre controllare Lupin che mi segue insieme a Lupin insomma è un personaggio che va bene e che deve andare comunque bene con le sue varie manifestazioni televisive cinematografiche proprio per un pubblico più piccolo più grande più adulto più vaccinato tra virgolette è un personaggio veramente completo ragazzi cioè io io quando seguivo Lupin non avevo idea di cosa sarebbe diventato stiamo parlando comunque per me dei primi anni 80 io ho conosciuto Lupin nell'82 ma ne sono rimasto folgorato ma non potevo immaginare qualcosa di questo tipo ok ma sarebbe stato impossibile impossibile adesso è la normalità e tanti fan ci sono ne sono contentissimo veramente contento poi io ammetto una cosa apprezzo della prima serie apprezzo molto di più gli episodi di Masaki Osumi quindi il regista dei primi dieci episodi e mi sarebbe piaciuto molto vedere come sarebbe andata avanti la serie perché comunque si intravedeva che aveva qualche direzione particolare verso cui la voleva portare però allo stesso tempo devo dire che forse non so se vorrei avere quella serie e non avere tutto il resto perché comunque è quello il problema è uno di quei dilemmi risolvibili non vorrei dover mai scegliere una cosa del genere però comunque nella O Production nella Telecom diciamo che nella Telecom vive molto vive molto Miyazaki perché è molto accattivante però tutti quanti adorano l'idea di disegnare Lupin in quello che Masaki Usumi ha realizzato insieme a Otsuka in realtà loro si divertivano parecchio quindi facevano erano altri tempi cioè si divertivano immagino la felicità di Usumi che si è ritrovato tra le mani la prima serie animata per adulti con le possibilità che poteva sperimentare infatti comunque la regia dei primi episodi è un qualcosa di incredibile soprattutto rapportato a quegli anni c'erano anche solo dei movimenti di macchina in certi episodi penso alla scena l'episodio di Poon in cui c'è Lupin nel covo di Poon e si muove si fa una specie di capriola e mira con la pistola subito c'è un movimento di macchina complicatissimo da rendere in animazione soprattutto ai tempi bellissimo vedo che con piacere ti appassiona questo tipo di cose è bello è bello anche solo sarebbe stato bello vedere un cinquante episodi in questo modo però sì Usumi è sempre stato molto tridimensionale anche perché lui nasce comunque dal teatro per Burattini ha sempre vissuto come dire come regista ha sempre avuto la forza del primo piano secondo piano terzo piano cioè a più livelli come veramente un teatrino lo mette molto questa è una sua chiave di lettura che ha molta importanza nel modo di riconoscerlo anche il modo su cui su gli conte cioè sui storyboard metteva comunque parecchio peso alla scenografia e segnava molto l'inclinazione anche 10-20% erano cose parecchio innovative per l'epoca c'era una un'ispirazione dal cinema degli anni 60 poi di Yakuza per per molti di di voi diciamo a me aiuta un po' l'età anche il fatto di aver vissuto lì ma c'è parecchia tradizione cinematografica giapponese che spesso e volentieri si ritrova io ho iniziato a guardare film giapponesi pure per vedere queste influenze infatti ho recuperato diversi film di Seijun Suzuki perché comunque ci ho ritrovato molte cose ma comunque tenendo conto che ha fatto anche regia di episodi di seconda serie quindi c'è l'episodio assurdo della terza serie che l'episodio 13 io lo 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 definisco sempre David Lynch 10 anni prima di David Lynch perché è bravo perfetto 10 anni prima quanto quanto hanno visto comunque tanti registi Dupin è diventato comunque già popolare lo era già nel 75 76 con edizioni estere che hanno avuto sempre piattaforme un po' nascoste nel senso che l'animazione giapponese arrivava non in tv però arrivava molto nei festival piccoli che ancora parliamo veramente di 50 anni fa 40 50 anni fa esistevano già gli eventi a cui noi dedichiamo parte del nostro impegno tipo lucca eccetera esistevano e si vedevano con traduzioni in inglese veramente pietose su cui anche Lupin era presentato e sul palco c'erano persone come te come chi ci ascolta magari qualcuno che un domani non sappiamo ma è già impegnato in regia eccetera stupendo stupendo veramente incredibile però dimmi parla conducimi io comunque avevo il spettatore con la bustina quando ci siamo visti mi ha regalato sì per per il 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 concerto è venuto e mi ha detto guarda queste sono le spillette del trio di Ono con con gli altri due tra l'altro il batterista è quello storico del della seconda serie che che ha che ancora oggi suona con con Ono anche se Ono c'è il mondo da dire mi dovrei fermare dovevo bloccare tutte le parole comunque Ono in questo momento non sta facendo concerti ne ha previsto uno per marzo dell'anno prossimo dopo un anno di covid speriamo che finisca presto però comunque la sua band senza di lui con un pianista a lui carissimo sta portando avanti il suo batterista storico sta suonando e sua figlia è stata anche qui in Puglia ospite di un diciamo non manager di un appassionato che l'ha portata qui per alcuni concerti che è Nico Conversano che appunto in Puglia si occupa di jazz e poi c'è Ono al centro che forse avrei visto appunto nella copertina che Tad ha disegnato per Ono è il il bassista insomma è un bellissimo regalo che che molto volentieri se mandi a Tad dice Andrea ce l'ha lo conserva ancora certo che lo conservo per carità approfittiamo di queste spillette per entrare nella fase Andrea collezionista perché mi hai detto che avevi preparato qualcosa da da mostrare dalla tua collezione ah sì allora allora un momento un momento innanzitutto questo il secondo volume il primo non lo mostro perché con la dedica del sensei cerco di metterlo fuori il meno possibile anche per le impronte digitali però comunque allora sì il manga è veramente stupendo è bellissimo racconta uno spaccato non solo di quegli anni ma di tanti autori tipo Baron Yoshimoto che è anche un grande ecco qui Monkey Sensei riprodotto convinto della sua vita però in genere allora sì io mostro semplicemente proprio due o tre pezzi che hanno che hanno praticamente una ricerca impossibile guardate queste sono cuffie con con l'illustrazione del del sensei cuffie per per la musica realizzate veramente adesso dovrei trovare l'anno ma devo vedere nei miei archivi tra cui con tanto di illustrazione ah questa illustrazione la conoscevo ma non sapevo da dove venisse allora questa è un'illustrazione creata dalla DOO che è la stessa casa produttrice di queste cuffie e fa parte di un pacchetto di illustrazioni che il sensei ha realizzato non propriamente per loro ma che ha raccolto per loro tra le varie praticamente come un file delle sue illustrazioni che tutti potevano utilizzare nella DOO per creare i pacchi di questo esiste un puzzle esistono adesivi sono stati anche riprodotti con il suo permesso da altri sempre per pubblicizzare altri prodotti legati a lui per creare qualcosa di differente qui c'è la versione bianco e nero ma c'è la versione a colori quella sul puzzle è stupenda però diciamo che in questo momento non posso portare tutto comunque questa è una bellissima cuffia tra l'altro c'è anche il suo il logo singolo del logo sì e questa è è comunque un prodotto ah 84 ecco c'è scritto New del 84 da molto vibe anni 80 effettivamente sì sì poi ah questa è una cosa molto interessante parecchio rara però stiamo parlando di prodotti come dire prodotti comunque commercializzati adesso molto rari di difficile recupero e di di valore comunque storico per l'open però niente di di particolarmente originale cioè in copia unica anche perché comunque sono le prime cose che però nello stesso tempo questo è quello che succedeva durante la seconda serie cioè scatole di cui non crediate ma la la come dire la procurassero è molto raro non so se si vede qualcosa di abbastanza chiaro eh io vedo vedono le macchine le macchine con i personaggi questa è una serie di di alcuni di alcune macchinine adesso vi faccio vedere anche l'interno veramente molto belle sono macchinine a a vitina cioè di quelle che giri la manovella e partono non di quelle che tiri indietro le e questa parte il fatto che c'erano comunque disegnini bellissimi a fronte era comunque gli interni cioè queste sono sono cose veramente che oggi sono molto difficili da recuperare ah erano proprio assemblabili assemblabili e tra l'altro soprattutto il valore maggiore nel momento che cerco di far vedere sono le illustrazioni che erano presentate ecco erano presentate di lato cioè immagini per pubblicizzare il prodotto dimmi se si vedono abbastanza bene allora io le vedo benissimo spero che le vedano bene anche in live ma credo di sì perché più o meno mostro quello che vedo io sì comunque hanno degli adesivi per da sistemare eccetera comunque queste sono c'è di tutto e anche di cose ironiche ma veramente che oggi dimostrano quanto allora ben chi ben chi cesso praticamente è una parodia delle Mercedes però questa è una Mercedes water in cui il maestro si è lanciato per fare una versione queste sono versioni di un simil zenigata ma veramente ce ne sono uscite alcune con zenigata hai un paio di versioni di jigen di di rupan e niente sono molto simpatiche perché hanno sono modellini da costruire ditemi se si vedono abbastanza si vedono una cosa abbastanza non mi sarei mai aspettato di vedere queste macchinine con il bagno ma se cercate se cercate comunque anche su canali in vendita tipo cioè il discorso è praticamente questo nel momento in cui si cerca un io lo dico sempre per quanto riguarda il il Giappone in generale cioè se adesso in rete si trova di tutto però bisogna sapere che cosa stai cercando se non la conosci non la cercherai mai quindi per esempio un brano un brano di di Ono per esempio in cui lui ha firmato con un altro nome o sai che c'è o sai che non c'è se non lo conosci lo troverai su Youtube perché su Youtube c'è tutto capisci non so se è chiaro quindi trovi il 45 giri ma lo puoi sentire in realtà ma non sai che esiste e quindi tu hai a portata di mano talmente tante di quelle cose che che non le cercherai eh questa è una cosa c'è tutto il disegnino con con il scusatemi non pensavo proprio di poter parlare di questo tipo di cose in rete però comunque cioè alla fin fine ci sono ci sono i personaggini con con i pezzi eccetera beato chi se le può montare io li tengo li tengo così ma non sono un modellista noi abbiamo io ne ho anche ma abbiamo ogni tanto abbiamo già ospitato una volta una serata di modellismo abbiamo montato dei Gundam perché comunque è il modellismo giapponese in occidente che è più è più forte però è incredibile hanno comunque di tutto esiste invece in giappone di modelli da costruire qualcosa è un sì qualcosa loro comunque io ne approfitto comunque per fare anche cultura comunque giapponese in genere a parte che il giappone è un paese che non possiamo considerare parte del mondo perché è veramente particolare però diciamo che viviamo comunque in tutto il mondo in un come dire in una situazione globale che può essere di crisi di crisi lavorativa io non so quanti anni tu abbia 24 24 ok per me hai già perso 6 anni di lavoro stai probabilmente vivendo a casa con i tuoi vivi per quello che puoi vivere diciamo che stavo proprio vedendo l'altro giorno su un manga uno dei personaggi di un manga a 16 anni già lavorava in mcdonald quindi già guadagnava da sé non so se è chiaro cioè avere uno stipendio a 20 anni di 1500 euro non c'è niente di speciale non so se è chiaro cioè puoi lavorare anzi la tua vita viene sfruttata in questo senso il Giappone è un paese dove sei libero di fare quello che vuoi è vero che ti occupano con il lavoro però c'hai moneta e vieni portato a spendere anche io in Giappone lavorando ero portato a spendere anche i modellini che non l'upenio era sempre uno speso per cui stavo tirato però pensate a tanti ragazzi che si trovavano con i cacciapon no? a 200 yen e prendo prendo e mi faccio la collezione no? capito? cioè un consumismo che porta a passare il tempo notturno per riposarsi facendo dei gampla comprando degli acrilici e cose di questo tipo quindi per questo è molto diffuso le riviste costano poco 4 euro un mattone di pagine a colori obbjapan eccetera non faccio nomi di ditte perché sennò c'è pubblicità però anche qui sta arrivando in effetti è molto buono perché nonostante il periodo che l'Italia vive ciclicamente di crisi problemi pensa alla tua vita si furbo più degli altri tramite partenza di giochi videogiochi tempo libero e finalmente un po' di gioventù che è sempre stata rubata perché voi non avete idea ma era rubata alla vostra età 30 anni fa cioè a 24 anni i tuoi fumetti volavano dalla finestra se continuavo a leggerli ecco no ragazzi purtroppo è vero adesso adesso i vostri genitori rimpiangono Goldrick per intendo quindi pian piano tutto quanto migliora quindi viva Gandalf comunque ho un altro pezzo ma questo è la prima e l'ultima volta prometto dimostrarlo a un live quindi dai dovresti essere contento allora nel 95 arrivo in Giappone e osservo per la prima volta qualcosa che non avevo mai visto cioè una scimmia che riproduce una scimmia di Monkey Sensei la vedo in un negozio che vendeva della sova all'aperto gli chiedo per quanto me la dai e lui gli disse non la do e io gli dissi una cifra tipo 100 euro disse no è un portafortuna non la doro mai guarda arrivo a 200 ero proprio pazzo ragazzi avevo sieno 250 in banca in tutto avrei dato di tutto per averlo lui disse no assolutamente non lo vendo e mi sono messo alla ricerca l'ho trovato in dead stock cioè le rimanenze dead come morti stock di rimanenze diciamo che l'ho pagato bene o male la stessa cifra che avrei dato però l'ho mostrato questo stesso modello che vi mostro l'ho mostrato a Monkey Sensei di cui lui aveva il modellino ma non più la scatola e quindi lui se l'è manipolata ed è questo e adesso lo mostro fuori dalla scatola lui ha fatto anche l'illustrazione della scatola dietro per chi ha visto comunque dei suoi manga c'è il classico poliziotto scimione questo è questo è il Monkey Dance che sempre Radu ha realizzato sul suo modello ed è per lui una delle cose più belle che siano state realizzate adesso il modello che era a casa sua è nello studio della MP Works del figlio è nell'ufficio il figlio lo tiene con con estrema cura perché è il modello che aveva il padre ricevuto e niente io ho fatto vedere Monkey Sensei anche con la scatola lui se la ricordava e ha detto ma guarda c'è secondo me per trovare una cosa simile allora vi mostro che cos'è ma è veramente qualcosa di è nuovo è nuovo perché è nuovo era è nuovo è rimasto e sono contentissimo di mostrarlo a un pubblico così di voi giovani è questo qui dimmi Matteo se si vede abbastanza bene sì sì si vede allora la cosa la cosa simpatica di questo Monkey Dance è che tra l'altro ha ancora cioè pensate ha ancora l'etichetta sembra veramente una cosa appena uscita dal negozio è uscita proprio dal negozio se non fosse per non c'ha neanche una traccia di polvere e le batterie le ho messe solo che non posso farvi vedere il movimento cioè ve lo faccio vedere ricostruito ma dovrei mettere la musica a pala perché ha un cursore qui dietro per cui lui balla in realtà appena c'è la musica muove le braccia si muove avanti e dietro e la testa di conseguenza solo per il peso fa così e quindi vai e vai ed è una cosa veramente stupenda io non la tiro fuori se non per per serate folli qui lo voglio vedere muovi però sono veramente contentissimo di mostrarvelo in chat offro 205 euro per la scatola senza la scimmia la scatola la scatola è quello che fa collezionismo ma la scimmia questa scimmia significa avere e comunque ragazzi si può trovare anche io non so a quali prezzi adesso però è stata comunque commercializzata però in sordina quindi se riuscite a trovarla questo è uno dei simboli che fa di un fan di monkey punch una persona veramente speciale non lo dico perché io ce l'ho per carità anzi è per potervi dire piuttosto che altri modellini commercializzabili eccetera una cosa di questo tipo è scoperta per caso io ho visto veramente gli occhi di monkey punch sensei veramente brillare e voleva la scatola secondo me ha detto ma come fai perché lui prendeva e buttava però questo è sempre stato un personaggio che gli avevano proposto ed è stupendo con la M con la M messa così no ragazzi la firma sulla maglietta l'adoro si no no è stato veramente l'oggetto di cui è rimasto più fiero e quindi questo veramente chi riesce a procurarselo non è impossibile veramente può dire io ci sono il sensei è con me sulla scatola lasciate stare è difficile che si possa trovare veramente veramente molto difficile però in ogni caso se qualcuno volesse vi faccio anche la scansione la mettere in repertorio e poi dimmi io starei per lasciarti ma in realtà se c'è qualcuno che ha qualche domanda e mi ha scritto domande non ce ne sono quindi ah perfetto quindi se vuoi ti faccio quell'ultima domanda che ti avevo già anticipato quella sul allora tu sei stato appunto un animatore ti hai lavorato allo studio telecom e negli anni in cui hai lavorato tu mi pare stessero realizzando o il film di Dead or Alive o le profezie di Nostradamus ora tu mi correggerai perché non allora sì ti correggo in quanto io sono arrivato nella telecom dopo la fine di Nostradamus ok e quindi e tre quattro mesi dopo che era già finito però ho cominciato a lavorare e niente era come se ne facessi parte in quanto tra tutto lo staff molti degli accettati sono stati divisi e dati come come valore aggiunto a tutti quelli dello staff e compreso anche per me in quanto ero già comunque dipendente detto Relive c'ero quando è stato iniziato ma in realtà se ne occupava la TMS non la telecom all'epoca la telecom era mitaca quindi era ancora separata rispetto al presente di adesso in cui si lavora nello stesso luogo nello stesso palazzo ma comunque con lo studio è nettamente separato nel senso che si parla proprio di altri piani e di altri uffici cioè si entra proprio in tutto un altro settore io non potevo trasferirmi da un posto all'altro non veniva compresa una cosa di questo tipo e quindi niente praticamente nel momento in cui Detto Relive si iniziò ad essere prodotto io già ancora lavoravo oltre quasi alla fine di Virtual Fighter e Animaniacs già si iniziava io ho visto i bozzetti del maestro ho parlato della sceneggiatura e di tante cose quando lo andavo a trovare e comunque ci andavo tre cioè andavo in un mese andavo una massimo due volte però ho visto comunque i suoi di disegni mi ha raccontato la storia era tutto preso dal nanomachine ed era veramente un appassionato per quanto riguarda il settore scientifico eh sì infatti è il primo cioè tra i primi cinque film di Lupin è quello più sulla fantascienza che comunque cerca di essere io io credo di averlo però si tratta sempre di di cose un po' particolari credo di averlo ispirato perché già cioè sono parole grosse perché non merito assolutamente una cosa di questo tipo però avevo portato il mio Lupin a lui già molto tempo prima che a lui piacque molto se tu conosci i disegni che di solito faccio per per Lupin ti renderai conto che è molto detto relive sì sì è vero ora che fai notare la parte superiore come i capelli come li fai tu un po' si rivede dal film sì ma un po' se osservi anche il tipo di sguardo più legnoso eccetera io portavo già i miei disegni a lui per fargli vedere quello che facevo così in generale di mio e a lui piacquero molto non ha mai detto nulla e ne ho preteso nulla e ne spero nulla che possa averlo ispirato a questo però quando ho visto i suoi disegni di dettore live dei personaggi degli sketch che aveva creato ho ritrovato e gli dissi è veramente il Lupin che mi piace cioè questo è quello che ho sempre sperato di vedere e lui fu molto contento e mi disse guarda io sogno comunque un Lupin più maturo di quello che si sta facendo nello stesso tempo per dettore live lo faccio la sua importanza come regista è più a livello di storia per dettore live è più a livello di spirito di tutto quello che c'è intorno c'è la scena finale del che Lupin era travestito ma soprattutto per me in tutta l'animazione di Lupin rimane la scena principale che lui non tratto dai suoi manga ok perché quello è semplice è stato riproposto e lui non c'entra niente ma lui ha stabilito la scena dell'inizio in cui vengono prese le persone dalla cella in cui tutto tutto scappa delle macchine che corrono e poi e il viso che quello è suo è suo fino al Rupan Sansei che esce dall'inizio a quella scena io l'ho vista davanti e vi dico ragazzi quello è Monkey Punch se Monkey Punch avesse avuto l'animazione avrebbe creato quello è una scena incredibile è la scena più bella portatemi davanti qualunque cosa quando l'ho vista ero veramente alle lacrime ho detto questa questa sarà uno spettacolo e quando l'ho vista in animazione ho detto ragazzi più di questo è proprio il maestro è proprio è la scena finale del bacio ragazzi quando si rompe tutto il suo corpo è lì che vedi la regia è lì che vedi il soggetto e la storia e la nave sull'isola quell'input perché per il resto il sensei non si tocca cioè ha detto va bene sì sì ok fate così sì sì mi sta bene ma va bene quello sì sì fate eccetera eccetera quindi questo grande capolavoro come se fosse tutta farina nel suo sacco no farina c'è ed è farina buona e lievito madre quello che stanno dentro va bene scusate no allora commento su quello che hai detto poi passo alla domanda conclusiva e tra l'altro sono contento perché io sapevo di questa cosa di lui che aveva lavorato soprattutto alla scena iniziale a quella finale però non avevo mai avuto effettivamente una conferma diciamo ufficiale quindi mi fa piacere che mi hai confermato questa cosa perché io il tocco l'avevo visto in quella scena soprattutto quella iniziale ha una dinamicità unica cioè quella scena io ho visto proprio Monkey Punch nella scena che si accende il sigaro e poi lo butta ed esplode è è stupendo è proprio lui è letteralmente lui infatti ho proprio rivisto il manga sì 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 è stupendo è stupendo è lì che ci possiamo gasare della sua inventiva è troppo è troppo e su questo veramente dimmi un'altra domanda ti faccio la domanda sul se tu potessi siccome appunto hai lavorato a queste cose qui quando sei stato lì in Giappone se tu invece avessi potuto scegliere un periodo o comunque una produzione a cui lavorare o magari perché ti interessava un artista che ci lavorava lì a quale produzione di Lupen avresti voluto lavorare difficilissimo ottenuta per la fine perché quella ma ma non lo so chiederei più a te dove avresti mai voluto lavorare dentro io non so disegnare quindi non vabbè che vuol dire come produttore sì tu se sapessi insegnare dimmi dimmi queste sono le cose che mi incuriosiscono forse avrei voluto perché una volta abbiamo parlato anche su facebook io avrei voluto lavorare con Yuso Aoki perché quindi sulla terza serie perché io sarò blasfemo però io tra tralosciando la prima serie che è intoccabile io tra le serie classiche la terza è quella che adoro di più e soprattutto soprattutto il lavoro che ha fatto lui lo trovo veramente stupendo e quindi se sapessi disegnare e se potessi fare questa cosa andrei a lavorare sotto di lui anche io credo che sia non il mio preferito ma sicuramente tra gli animatori di Lupe io seconda serie assolutamente perché è stato lì il crogiolo degli animatori che più ho adorato Aoki come fai a lavorare con Aoki visto che lui ha fatto tutto anche l'intercalazione è un mostro il concept della serie e del film della giacca rosa un direttore dell'animazione che praticamente è stato il capo di tutto per me è proprio è l'anarchia la terza serie di Lupin e mi piace anche per quello perché anche il manga del sensei era l'anarchia e quindi apprezzo il fatto molti non la ma sì comunque io adesso non ho solo fogli di recupero però ti capisco benissimo cioè questo fatto del sto tracciando adesso per carità quindi abbiate un po' di abbiate un po' di pietà su di me però questo fatto del di Aoki che se ne viene con con le cose più più assurde no di pose di questo tipo no questo fatto delle spalle in questo e dai lo so come fai a starne dietro ma comunque a livello di seconda serie sono a livello di come dire storico ma comunque appassionato ho raccolto praticamente di tutto ammetto che ho parecchi suoi disegni e dai disegni ti rendi proprio conto senza il colore di quanta fosse la velocità con cui disegnava cioè molte cose non hanno neanche un bozzetto secondo me andava andava vedendole cioè tutte formate la Mercedes era non ha prospettiva non poggia sull'asfalto cavolo è stupendo è la cosa più bella tra l'altro se non ricordo male Otsuka lo definì un genio sì sì ma io ero e fa parte sempre dei discorsi storici di Otsuka però dissi a me mentre lavoravo comunque con Lupin ho parlato parecchio e sapeva che che ero parecchio ferrato e mi disse io ero con lui quando aveva creato la scena del del morso sulla pistola perché quello è di Aoki tutta la scena però Otsuka è il e lui ha inventato la scena no? sì lui ha fatto lo storyboard nel conte e è andato alla sua scrivania mi ha raccontato quindi c'era è verità poiché lui l'abbia resa leggendaria e l'abbia raccontato a tutti comunque alla fine l'ha raccontata lui però stava qui davanti a me e ha detto guarda perché io gli dicevo lui stava lì disegnando allora facciamo a come mi ha detto guarda deve fare così con la pistola capito con i denti e lui ha visto e mentre io posavo ha tirato fuori i disegni subito e abbiamo detto questo va benissimo cioè capito questo questo modo di giocare che avevano ci aiutava l'altro io non ci posso credere fatemi svenia adesso uccidetemi io voglio morire in questo momento una telecamera 3D per favore voglio vedere fino alla fine dei miei giorni che poi adesso così dicendomi queste cose io non sapevo assolutamente che lui avesse lavorato a quella scena no è proprio sua è proprio sua quando la vedi anche le le auto il brubato di di Zenigata quelle che si muovono che vedete per esempio nella sigla quella di planetò che si muovono sopra lo steccato quelle sono tutti gli occhi quelle sono gli occhi cioè proprio disegnate lui lui capito dicendomi questa cosa mi hai confermato che lui ha lavorato anche all'altra scena tra le mie preferite della prima serie perché io l'altro giorno ho scoperto che lui ha lavorato a quella che più adoro di tutte che è quella dello scontro tra Lupin e Gammon nell'autostrada sempre nella prima serie ah si certo certo quella scena è stupenda certo è bellissima anche nel manga quella è stupenda nel manga è una delle mie preferite e poi nell'animazione comunque allora io non la vedo sono veramente 15-20 anni però è uscito un box DVD di prima serie non fatemi di bugie 2001-2002 eccetera eccetera in cui c'è lo storyboard del pilot della sigla della sigla che poi sapete tra la prima e la seconda sigla di prima serie insomma quella del pilot tenuta eccetera eccetera in cui c'è lo schema di tutte le scene e chi le ha disegnate e quindi lì scena per scena tra cui anche quella della pistola quella delle auto e tante altre scene che si sono viste in prima serie ci sono degli esempi di storyboard e sono segnati accanto chi li ha fatte in maniera molto schematica e lì c'è anche la presenza di Aoki io mi ricordo di averla controllata per sicurezza mi ricordo che coincideva e poi è finita lì però esiste comunque lo schema del pilot esiste lo schema della sigla di prima serie esistono gli schemi perché la TMS c'ha tutto gli schemi di molte scene di prima serie quelle soprattutto famose e chi li ha disegnate scene per scene io ci sono stato nell'archivio solo una volta nel 95 settembre ottobre e ho solo visto i file chiusi stop basta ho solo idea degli scaffali in metallo con tutti questi file di carta vecchia con questa stanzina con solo una finestra occhio non vuole io ho notato subito la finestrina piccola a dire poi si può entrare anche perché fuori c'è la stradina accanto a un a un passaggio a livello che facciamo un casino incredibile però diciamo un sogno di ragazzo un po' lupiniano ma poi finito lì perché insomma la carina per vent'anni non te la puoi meritare però c'hanno tutto c'hanno tutto se uno potesse mettere le mani su quell'archivio sarebbe stupendo però purtroppo ragazzi è così va bene se non ci sono altre domande io allora ce ne sarebbe una su Virtua Fighter se se non ti dispiace no vabbè ragazzi tanto io l'importante è che riesca poi a fare qualcosa stasera dimmi allora un utente chiede Yu Suzuki autore del gioco ha mai avuto voce in capitolo nella produzione dell'anime credo proprio di no credo proprio di no e comunque io ero un intercalatore quindi le mie notizie provengono solo da appunto storyboard concetti più che altro di vieti su quello che poteva essere legato al gioco però niente di che no francamente per quello che conosco la produzione no non credo proprio è veramente una produzione a sé stante parecchio parallela è lasciata libera di sceneggiatori che immagino immagino conoscessero tanto ma poi alla fin fine dovevano creare delle storie accattivanti e basta legato ma fino a un certo punto ecco benissimo ti ringrazio per per carità grazie a voi e un'ultima domanda è appena apparsa Antospec chiede se conosci il cortometraggio Basette io immagino che lo conosci perché ah certo certo anche su quello allora è stato qualcosa come cinque anni fa circa cinque sei anni fa ricevo una mail da da Monkey Sensei e mi dice ciao come state tutto a posto qui così eccetera eccetera volevo chiedere perché noi comunque abbiamo avuto corrispondenza varia sia in Giappone ma una volta tornato in Italia è stato più diciamo guarda ho trovato questo e sembra che sia una produzione italiana allora detto tra di noi non voglio non voglio trovarmi in veghe particolari mi aveva messo il link di una produzione che era molto più all'americana ambientata a Roma con produzione romana sì l'ho vista anch'io sì con per carità fatta bene molto molto sparo con muscolosi eccetera non ho memoria non la conoscevo in realtà e lui disse ma veramente appunto gli italiani fanno queste cose ma molto interessante così eccola perché a lui più che a livello di diritti interessava di più conoscere quello che facevano i fan italiani i fan del mondo e gli stava andando a me gli schissi ho la mail ormai salvata perché io le ho salvate tutte si in floppy all'epoca che adesso nell'hard disk e gli dissi maestro sì è molto bella però le faccio una breve storia di Basette si chiama Basette gli ho spiegato che cosa significasse gli ho detto anche qualcosa di più particolare tipo la marijuana fumata la giga che tra l'altro gli è piaciuta ho detto questo si tratta di un regista così ecco l'hai fatta molto bene gli ho spiegato della macchina bellissima della Giulietta e gli ho mandato il messaggio e lui è rimasto contentissimo ha detto ma è stupendo ma veramente bellissimo qualche anno qualche anno dopo a Big Geek non so se conosci l'evento in Puglia allora di Big Geek io adesso io e Cristina stiamo uscendo fuori dalla società già ormai da un anno e passa però siamo tra i fondatori e dai soci e uno degli inviti che fu fatto fu fatto proprio a Mainetti per l'uscita di Gig e niente ci siamo incontrati e io gli ho raccontato la cosa e lui mi ha detto ah sì lo so Monkey Sensei conosce ho detto sì lo conosce ma non lo conosceva io non so a chi sia stato presentato ma la prima volta sono stato io gli ho detto veramente grazie quindi se Mainetti sta vedendo questo se ne dovrebbe ricordare ho detto ma io dovrei incontrare Monkey Sensei e mi disse ok se lo vedi di che sei stato da noi tanti saluti da Andrea che poi li scrivo io però non lo conosceva ed è rimasto veramente contentissimo il potere dell'Italia ripeto è stupendo sì cioè noi veramente siamo appassionati sul serio sul serio comunque tanti saluti a tutti i ragazzi per carità belle domande questa era veramente una chicca devo dire che comunque c'è un Monkey Punch che ha visto Basette per me l'ha visto l'ha visto però è bello che lui non cioè so benissimo che non era in contatto con nessuno cioè lui comunque ha sempre smanettato in internet quindi lui lui stesso ha trovato su YouTube inserendo comunque lupin 1,2,3 con le barrette capito e ha trovato sto video e lo voleva saperlo e ha mettato a Roma ma chi è una produzione ma lo vedevo proprio cioè l'ho capito proprio da come ha scritto che era interessato non a livello di diritti perché non ne fregava nulla ma proprio di sapere ma chi sono che fate voi che c'è sul mio personaggio da voi è un'autoproduzione guardati questo che è molto bello per chi non lo conoscesse Basette è un cortometraggio diretto da Gabriele Mainetti lo trovate tranquillamente su YouTube con attori italiani che rappresentano una versione romana proprio della romanità di Lupin è un qualcosa di di stupendo recuperato comunque cortissimo sì ho spiegato a Moki Sensei sì è anche molto romantico ed entra nei personaggi con una storia veramente inedita e non spuntata esatto infatti rispetto ad altri live action si è allontanato e allo stesso tempo è entrato proprio nel cuore del personaggio nel cuore sì sì su quello veramente tanti complimenti Andrea ti faccio un'ultima domanda perché mi ha scritto un ragazzo in privato che non riesce a connettersi bene alla live e la recupererà domani però voleva farti questa domanda e voleva chiederti cosa ne pensi del colpo di scena finale dell'ultima serie la serie parte 5 e quando Lupin e quindi allora anche su quello c'è parecchio da dire allora a partire da Moki Sensei i racconti di Maurice Leblanc sono stati tradotti sono stati tradotti in una versione di una cinquantina di volumi che appunto come storico mi sono procurato e che hanno avuto qualcosa come 250 ma non è cosa che mi interessa però so che è così ristampe in tantissimi decenni e questi racconti sono una traduzione di una persona autorevole che è anche uno scrittore per cui ha cambiato un po' a gusto suo mantenendo un po' le radici del personaggio ma aggiungendo un paio di romanzi nuovi eccetera e questo è quello che ha conosciuto Moki Sensei come la versione giapponese in questa versione giapponese esiste la scena che si è vista quindi la scena che è stata disegnata per la scena mitica su cui tutti hanno parlato in realtà è presente nei romanzi di Maurice Leblanc ed è scritta ed è scritta quasi nello stesso modo e Lupin questa mi manca no dovete recuperarla anche perché c'è un'edizione su un volume giallo che costa una cretinata ragazzo 10 euro in cui ci sono 2500 pagine sono tutti i racconti di Maurice Leblanc e sono una cosa incredibile e vi dico incredibile ma non tutti quindi recuperate no ragazzi bisogna bisogna leggerli bisogna leggerli e se qualcuno ha qualche domanda mi può contattare tranquillamente perché io sono sono mai tanti anni parte della mia vita che dedico anche ai riscontri io studio anche agito cioè i rifugi i rifugi segreti di Arsene Lupin primo che guardate ragazzi esistono tutti quanti ci sono ancora adesso in Francia e sono autentici sono lì veramente ragazzi ci sono tutti quanti ed è stupendo trovarsi lì davanti io ho tutte le fotografie davanti di dietro del giardino eccetera eccetera tutti dei racconti perché lui era molto fedele su indirizzi numeri civici eccetera e quindi farsi il percorso della Francia turistico sotto Maurice Leblanc è qualcosa di stupendo comunque arrivando al suodo esattamente nonno Lupin dice le stesse parole anche io non riconosco e lo dice spesso non riconosco più il mio viso il mio viso non esiste cambio sempre non ho più idea di cosa sia il mio naso perché lo trasformo perché lo lo trucco e quindi molte cose le ho fatte e sono ormai recuperabili tagli cicatrici ormai rimarginate per migliorare il proprio viso quindi in effetti è una scena che chiude come un omaggio a Maurice Leblanc tenendo conto che la Francia sta vivendo un periodo in cui il vecchio personaggio che non era Lupin adesso sta riconquistando il suo ruolo e il suo autentico nome come nipote di Arsenio Lupin per chi è fan di Lupin un giusto riconoscimento ai libri come quello era dovuto e quindi quando io l'ho visto ho detto ah è una scena c'è la citazione il giorno dopo tutti stavano parlando di questa cosa qua che era strutturata e avevo detto ma raga però cioè se non leggete se non leggete Arsenio Lupin ma che cosa volete saperne di Arsenio Lupin terzo quindi io avevo colto solamente la citazione al manga perché poi Sensei ha messo più di un capitolo c'è questa questa storia del fatto che la faccia di Lupin non è la vera faccia di Lupin non è la vera faccia e soprattutto nel volume ora 13 dell'edizione Panini mi pare c'è il capitolo in cui Zenicata afferma questa cosa in cui dice che lui di Lupin non sa niente gli dice tu potresti essere un uomo potresti essere una donna potresti essere un bambino sei un angelo sei un diavolo non lo so un diavolo non è cosa qualunque poi gli inizia a staccare la maschera cioè tu questa scena piena di tensione e poi e non dico recuperatevi il manga si recuperatevi il manga comunque Matteo 10 euro adesso non ricordo la cassa editrice un volumone giallo da 3000 quasi pagine uscirete veramente pazzi il personaggio di Seri Lupin deve essere letto quello di Maurice Leblanc per capire chi non legge Maurice Leblanc non capirà mai e sarò severo nel dirlo non potrebbe mai capire il nipote è impossibile è proprio una radice è una radice fondamentale ragazzi veramente fondamentale sono qui per darvi una mano se avete difficoltà va bene io Matteo ti ringrazio tantissimo ti ringrazio veramente tutti non ho fretta ad andarmene sono tutti che avrebbero fretta a tornarsene a dormire e a fare altre cose però sono veramente contentissimo di essere stato con voi taggami cercatemi chiedetemi anche l'amicizia e ne sono contento e poi io ricondivido innanzitutto in chat il video dell'animazione che dicevo all'inizio di Andrea Kaeru Noikebana oh ti ringrazio tantissimo che è assolutamente merito è un'animazione carinissima e quindi ti ringrazio per essere venuto qui ora entriamo ragazzi in un momento torno subito nel senso per ora sparisco ma ritornerò tra qualche minuto e facciamo un post serata così finché finché siamo vivi intanto sparisco un attimo che saluto Andrea e torno ok ok Ciao